Potente appara ragazzi, qua è Axlo, Giovin Gatto, ci sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un pack opening Ebbene sia un altro pack opening perché infatti sono usciti i pacchetti speciali relativi diciamo al tot minimot, ma quello che sembrava un insulto E quindi ho detto, e no, e no, e no, ieri non abbiamo trovato niente e oggi dobbiamo trovare qualcuno Ma soprattutto lo faccio per un altro motivo principale, no anzi per due Perché allora, cioè sono due collegate, allora il primo punto è perché alle 18 gioca l'Italia, ora sono le 4.25 quindi ho proprio il tempo di fare il video, di editarlo, di caricarlo e poi di andare a vedere appunto l'Italia Perché infatti lo carico ora oppure non carico video, oppure non carico il video che vi avevo promesso che infatti oggi, come voi ben ricordate, spero ben ricordiate, dovevo caricarvi l'unboxing della GoPro Ma dato che, come voi ben sapete, è un video a cui tengo particolarmente, non voglio caricarvi un giorno in cui magari tutti stanno facendo dell'altro, in questo caso sono tutti a guardare l'Italia E quindi ho detto, ma facciamo questo veloce pack opening Come vedete ci sono questi pacchetti che costano 25.000 crediti, ne andremo ad aprire 5 Quindi sarà anche un pack opening proprio veloce da vedervi nell'intervallo della partita dell'Italia, oppure anche un po' prima, chi lo sa Comunque, detto questo, iniziamo col primo pacchetto, io direi di chiudere gli occhi, di riaprirle adesso Ah, io non andiamo a sovare nessuno, che palle Mamma mia, mamma mia, mamma mia, c'è pure la face che ammo oggi, quindi non chiudiamo gli occhi, non possiamo non avere fortuna Diego Costa, è schifo, cioè non è male però ovviamente 25.000 crediti per Diego Costa, non sono molto buoni Mamma mia, terzo pacchetto, qual è il numero fortunato? Il 3 Quindi in questo pacchetto noi andremo sicuramente ad ora qualcuno perché salteremo Dai, Busquets, che gol si è magnato l'altro giorno Non abbiamo già trovato niente Si siamo fregati, si è tanti, 5.000 crediti in 2 minuti In 2 minuti e 50, perfetto E andiamo col penultimo pacchetto di oggi E ora battete due volte le mani Lasciate un bel mi piace come sempre, se l'avete già lasciato scrivetelo Che io appunto vi dirò magici E andiamo ad aprire questo pacchetto Non ci posso credere Carri, cad, sons, jesni, jesni Ancora mai con E ragazzi Siamo già giunti all'ultimo All'ultimo pacchetto Di questo video Che andiamo ad aprire Noi ci alziamo in piedi Anzi no No, no, noi stiamo seduti No, noi saltiamo Saltiamo In tutti i segni, sì No, no, no In tutti i segni, sì Chiudiamo gli occhi Un verde Ma dai Ma stiamo scherziamo Pelle pattone Pelle pattone Graziano No, il magico Graziano Che Come non l'ha fatto Man of the Match Come Comunque ragazzi So che è stato un pacchetto Veramente veloce Dove non ho trovato assolutamente niente Però appunto era per caricarvi un video Dato che oggi Ve ne avevo provesso uno Ho visto che sulla pagina Facebook Lo richiedevate in tantissimi Quindi eccovi qua al video E magari lasciate un bel mi piace Se già siete Forza Italia Forza Azzurri E ricordate di passare dalla pagina Facebook Perché a breve O a momenti Oppure l'ho già fatto Farò i No, no, lo farò a breve I contest O meglio Giveaway Appunto di Costa Rica Italia Quindi Italia Costa Rica E quindi detto questo Io vi saluto Vi dico potente A pazzi Nel prossimo video Buon là